L'8173 San Marino dal 1997 al 2008 in un grande classificatore io infatti dico 97 perché nella prima parte non c'è niente evidentemente avevano lasciato il posto libero tutto ordinato e ben sistemato anche qua non sono in grado di dirvi se le annate sono complete gli spazi liberi presumo che potevano essere stati lasciati per foglietti o non è solo una mia protezione e quindi in un vino Grazie. Qua come vedete è tutto ben sistemato. Io non so se qui c'è altro, forse credo che qua sia vuoto, si è vuoto. Se volete altre informazioni scrivete a filatogliacchiocciola4bayocchi.com